Niente sta andando per il verso giusto nella nuova avventura di Ben Affleck che si è appropriato dei panni di Batman nella pellicola di prossima uscita Batman vs Superman. Ripetutamente offeso da fan e non che lo vedono poco adatto per il ruolo, ora sembra che Ben sia anche rimasto vittima di un incidente sul set. Niente di serio sia chiaro, ma stando a quanto riportato da vari siti americani tra cui Screen Rant e Star Magazine, l'attore si sarebbe fatto male ad una spalla mentre girava una scena particolarmente adrenalinica. In realtà la notizia è tuttora da verificare, il rumor è infatti partito da un utente che ha pubblicato un video su YouTube in cui si vede Affleck che si tocca la spalla sinistra mentre espone, o così sembrerebbe, il problema ad una persona che, secondo Screen Rant, potrebbe benissimo essere un dottore. Sempre secondo il sito, l'infortunio non sarebbe grave, ma comunque da tenere d'occhio, tanto che ora alla controfigura dell'attore sono state assegnate anche scene all'apparenza semplici e innocue, come una in cui Affleck doveva semplicemente sollevare un bambino. L'attore è stato quindi spedito a casa a riposarsi, ma dopo due giorni era già tornato attivo, ovviamente con tutte le cautele del caso. Affleck starebbe dunque girando le scene in cui interpreta Bruce Wayne, lasciando agli stuntman le scene più d'azione e con la maschera.